Una badante romena aveva quasi prosciugato il conto corrente dell'anziano invalido affidato alle sue cure, ma l'intervento della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino ha messo fine al raggiro. Dal giugno scorso la donna aveva fatto firmare all'invalido bonifici bancari per 11.400 euro a titolo di regalie per un presunto figlio da lei lasciato in Romania. Dopo aver sottratto nei giorni scorsi altri 7.000 euro, la signora stava per prelevarne altri 4.000, ma i finanzieri sono arrivati in tempo, anche grazie alla collaborazione del direttore dell'istituto bancario, dove l'uomo, affetto da deficit mentali e fisici, teneva il conto corrente, un conto su cui la romena aveva la delega ad operare. Coordinati dal PM Irene Liliu, gli investigatori hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo del conto corrente e denunciato la romena per circonvenzione di incapace.